Elettrosmog e tumori, un binomio inquietante. Ne abbiamo parlato qui di recente per il caso di Rocca di Papa, con l'ex sindaco Veronica Cimino sfiduciata per fermare la sua lotta alle antenne abusive e pericolose per la salute dei cittadini. Molti poi ricorderanno il caso storico di Radio Vaticana con tumore, linfome e neoplasie sopra la media nazionale. L'irraggiamento da 25 volte per metro, proprio come oggi parte dell'esecutivo Meloni vorrebbe per favorire il 5G. Di questi giorni poi la richiesta di avviare indagini in Campania è arrivata all'ASL e alla procura di Santa Maria Capovetere da parte del sindaco di Portico di Caserta per anomali insorgenze tumorali registrate in prossimità di antenne 4G. E poi c'è il caso Volturino, un paesino di montagna in provincia di Foggia finito sotto osservazione della Commissione dell'Unione Europea per il selvaggio Far West di antenne. Oltre 200 tra tralicci abusivi che da ben 37 anni, nonostante l'ordinanza di demolizione del sindaco, continuano ad irradiare senza sosta notte e giorno con agenti possibili cancerogeni i 1700 abitanti del suggestivo affaccio sulle isole Tremiti dove nessun parlamentare è voluto andare in vacanza nemmeno gratis. Della vicenda di Volturino, proprio qui su Allerta 5G, esclusiva per la Casa del Sole TV, nella 35esima puntata della rubrica, ne parliamo oggi con Antonio Gagliardi, ex sondaggista Ipsos e DOXA, presidente dell'assorazione Elettrosmog Volturino, impegnato nella lotta in difesa della salute pubblica contro l'invisibile attacco del wireless tra Puglia e Molise. Benvenuto Antonio. Buongiorno. Allora, hai sentito insomma il sindaco di Caserta chiede indagini, però tu come sondaggista proprio a Volturino hai fatto diverse valutazioni, ma qual è la situazione nel tuo comune, Antonio Gagliardi? Praticamente io ho fatto dei sondaggi nel 1990-91 così, pubblicati qualche anno dopo, perché per caso ho scoperto l'insonnia in questo paese, allora non c'erano i telefonini, avevamo solo le antenne, io non dormivo la notte ma non pensavo che fossero le antenne, però quando andavo a intervistare le persone per i sondaggi mi dicevano prendi una tazza di caffè, no 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 la posso prendere perché io mi sveglio alle 3-4 di mattina e anche io prendo le gocce di Lexotan e così man mano, tutti i giorni, ognuno che prendeva queste gocce di Lexotan, allora non sono solo io, qui il caso è molto diffuso, quindi vado a indagare nelle famiglie di Volturi e scopro un'altra percentuale, del 70% che soffriva di insonnia, ma per avere la certezza io vado anche nei comuni vicini, quindi tanno alla stessa altezza altimetrica di 700-600 metri, quindi non ci sono industrie, non c'è traffico automobilistico, vado a verificare nei paesi vicini, la percentuale si e no prendeva l'1%, ma come mai? Volturi nel 70% e a 4-5 km i comuni dormevano tra le braccia di Morfeo, a questo punto per avere la certezza che fossero le onde radio vado a Ferrazzano, un comune vicino Campobasso, anche c'aveva le antenne però sui tetti, noi c'eravamo un po' più a distanza, quando vado lì la percentuale era più alta di Volturi, proprio per questo motivo, e quindi a questo punto ha detto non ci sono alcun dubbio, sono le onde elettromagnetiche, quindi poi si è interessato il Corriere della Serie che addirittura ci portò in prima pagina dicendo ma qui dove stiamo? In un'area metropolitana, entra in farmacia e vede tanti tipi di psicofarmaci, altri farmaci mancavano, qui domani dobbiamo andare in prima pagina, così grazie a Carlo Ulpio conquistiamo la prima pagina del Corriere della Serie e pensavo che si sarebbe risolto il problema. Invece soltanto un po' di chiasso così e poi è continuato come prima. Allora ti volevo chiedere una cosa però perdonami, quindi da quello che io capisco, la tua indagine nasceva esclusivamente per problemi legati all'insonnia e a Volturino, parliamo degli anni 90, oggi siamo praticamente oltre 20 anni dopo, all'epoca non c'erano antenne di telefonia mobile ma a Tralicci e antenne radio di cosa? Radio e TV, immagino. Radio e TV privati. Mentre oggi ci sono antenne di telefonia mobile su Volturino. Adesso ci sono anche quelle di antenne di telefonia mobile, quindi la situazione è ancora più grave perché ormai le persone dormono col cellulare vicino sul comodino ed è un problema diffuso oltre Volturino. Infatti se andiamo a fare le indagini in quei paesi vicini già non esiste più quell'1%, anche lì si è incrementata l'insonnia. Ma il problema grave dell'insonnia è che non è che uno può recuperare dopo e quindi recupera il sonno, la questione è che non tormento bene, succede che le difese immunitarie non funzionano e quindi la persona è esposta a ogni tipo di malattia e di fatti non è solo questo il problema, ma anche il diabete perché l'insulina non svolge bene il suo compito in presenza di insonnia. Questa è la scienza che lo dico, non è che lo dico io. Io mi assumo la responsabilità di dire che qui c'è un altissimo percentuale di persone che fanno uso di psicofarbici. Ci sono studi che dicono proprio che le radiofrequenze, i campi elettromagnetici influiscono sulla produzione della melatonina, la lineale, però volevo chiederti ma ci sono anche casi negli ultimi 20 anni a Volturino, che è un piccolo paesino come abbiamo detto in provincia di Foggia per quanto riguarda neoplasie, tumori, malattie gravi insomma al di là dell'insonnia? Certo. E questa è un'indagine che ho fatto nel 2003, subito dopo l'insonnia, in quattro comuni vicino a Volturino e quindi è scaturito che Volturino aveva il 6,5% in più di mortalità per tumori. Ma non solo, anche l'aspettativa di vita. A Volturino hanno vissuto 68 anni, i morti per tumori in altri paesi, la media era di 73 anni. Già questo era dei segnali preoccupanti. Certo. Quindi è evidente che con l'insonnia esorgono tutta questa problematica. E anzi, un'altra problematica ancora più grave, che adesso scriverò al Ministero del Lavoro e altri enti, è che tutti questi incidenti sul lavoro dipendono dall'insonnia che colpisce ormai più, non solo Volturino, ma ormai tutto il mondo, a seguito dell'aumento della telefonia mobile. E figurati, adesso con il 5G la situazione sarà ancora più disastrosa. Quindi incidenti sul lavoro, adesso capitano perché c'è più sicurezza sul lavoro, ma la gente è distratta perché non dormendo bene, sei distratta. A me mi succede tante volte, mi scappano le cose di mare, sbatto con l'altro, perché sono distratto, perché non ho dormito bene. Ma una persona che dorme bene, le classiche 7 ore, è una persona equilibrata. Adesso persone equilibrate, bisogna fare una ricerca e pagare la profumatamente a trovare qualcuno che sia molto equilibrata. Andando a vedere sul sito dell'assolazione Volturino, quella che tu presiedi, Antonio Gagliardi, si leggono decenni di lotta, c'è una trafila interminabile di interventi dei carabinieri, della procura, del Codacons, blitz, archiviazioni, sentenze, ordinanze. Ma qual è la situazione? C'è un meter bastissimo. Tu hai seguito, immagino, negli anni, tappa per tappa tutta l'evoluzione del caso. A che punto siamo? Siamo al punto di partenza. Siamo riusciti ad ottenere il piano regolatore che descrive un'altra zona per lo spostamento delle antenne. Ma non ci vuole andare nessuno. Quindi, quando ho fatto le prime denunce, sembrava che, soprattutto dopo il Corriere della Sera, andiamo in prefettura, il prefetto chiede al sindaco, ma le antenne sono autorizzate? No. E chi aspetta ad abbatterle? Ma no, già abbiamo fatto, detto io. No, però il procuratore Rizzi mi ha detto di stare, di lasciare stare le antenne e di occuparmi d'altro. Però vorrei anche che... E per quale motivo avrebbe detto questo, secondo te? Secondo me perché questi fanno pressione, ormai nel corso degli anni fanno pressione anche sulla magistratura. E gli avevo scritto pure nelle varie denunce. Questa frase qui che diceva sempre il procuratore mi ha detto di lasciare stare le antenne e di occuparmi d'altro. Questa frase la ripetevi in tutte le varie denunce. Poi... E che cosa ne hai seguito? Nulla di fatto? Oppure c'è stata... No, perché poi io non sapevo nulla. Mi arriva una richiesta di archiviazione da Lecce. Ma io a Lecce non ho mai fatto una denunce, non ci sono mai andato. Parti dalla punta nord della Puglia e vai all'estremità sud e vado a vedere al Tribunale. E vado a leggere una delle mie denunce, un APM del Tribunale di Lucera. Allora la manda a quella di competenze. Però quando ho fatto opposizione, ormai si è prescritta. Ma non era meglio che non mi scrivevate per niente a farmi andare in giro di qua e di là a Lecce? Qualcuno aveva preso questa inizia, però non ha fatto nulla. E ci sono stati altri casi di procuratori che hanno detto ai vigili, raccontato dal vigile, lascia stare le antenne, non vi alzandate a sequestrare perché io non ci capisco nulla. Ma che razza di discorso è questo? Cioè, è evidente che questi fanno pressione, perché non è solo Volturino. Io conosco ormai tanti comitati da Pescara, dappertutto, che purtroppo la situazione non è migliorata. Tranne che, guarda caso, a Ferrazzano, perché poi quando ho scoperto che a Ferrazzano c'era l'insonnia, leggermente più alta di Volturino, perché c'erano i ripetitori nelle centri del paese, quindi quando è che vado a Ferrazzano a chiedere i documenti perché hanno spostato le antenne, vado a verificare. Visto la legge così, visto il sondaggio prodotto dell'associazione di Volturini che ha rilevato un'alta percentuale di insommi, quindi hanno tenuto conto del mio sondaggio. E quelle antenne sono state trasferite. Con un piano di localizzazione, immagino fuori dal centro abitato. Però la cosa che interessa di più, caro Antonio, è capire, da un punto di vista giudiziario e se vogliamo anche municipale, perché ho visto che poi il sindaco del tuo comune ha emanato, emesso diverse ordinanze per lo smantellamento di queste antenne che da quello che capisco sono abusive, è giusto? Tu mi dicevi che... Certo, sì, abusive. Cioè nessuna è regolare, sono tutte abusive oppure ci sono magari una partita di antenne? No, c'è qualcuna autorizzata. Autorizzata? Eh, però quella lì ormai è stata disattivata, i motivi non li so e quindi lasciamo stare. Cioè l'ordinanza è stata non resa eseguibile? No, queste hanno fatto opposizione, hanno fatto opposizione al Tar, poi al Consiglio di Stato e al Consiglio di Stato hanno dato torto al Comune perché dice ormai le antenne devono stare lì, poi lì ci sono anche paleolico, potrebbe disturbare eccetera. Invece sono almeno quattro altri tralicci che devono essere demoliti che non hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato. Quindi sono a tutti gli effetti demoliti. Io adesso sto sollecitando il sindaco perché si è attivi per questa procedura di demolizione. Ancora non so le risposte, stiamo attendendo. Ma il fatto più curioso, è che la sentenza del Consiglio di Stato è stata ispirata dal Comune stesso perché il sindaco non ha avuto mai l'attuale sindaco, non ha avuto mai interesse a far spostare le antenne. Infatti non ha parlato dell'energia elettrica abusiva, che l'energia non può somministrare energia elettrica a tralicce abusiva. 20 denunce ho fatto solo per questo aspetto, la magistratura non si è mai pronunciata. Poi va a scrivere al Consiglio di Stato che i valori misurati dall'ARCA sono nella norma. Invece non è vero. Questo l'ha scritto lui perché io più volte l'ho denunciato per misurazioni false, perché va a misurare nei punti dove è basso, non nei punti dove è alto. E tu che misurazione hai fatto? Con strumentazione tecnica appropriata? No, io ho il mio strumento. Però il mio strumento... Che valore hai rilevato, Antonio Cagliardi? Che valore hai rilevato con la tua strumentazione? No, ma l'abbiamo rilevato poi insieme all'ARCA. Oltre ai 48 voltmetri, là il limite nei pressi delle antenne è 20 voltmetri. Abbiamo rilevato 48 voltmetri. Io col mio e loro con il loro. Ho fatto le foto con la speranza che adesso risolviamo il problema. Intanto da marzo che sono state fatte queste misurazioni, stiamo ancora aspettando che devono mettere le centraline, verificare i vari punti. Chiamo l'ARPA, ma temporeggio e continuo, per perdere tempo. A questo punto io ho misurato anche nelle abitazioni, in alcuni punti abitativi, dove supera i 6 voltmetri, il limite 6. E gliele ho mandate. Ecco, ma quando tornate bisogna misurare in questi punti, invece non vogliono venire. Noi non siamo, noi deve essere il comune a dirci dove dobbiamo misurare. Prima di tutto sono incompetenti e poi non hanno nessun interesse. Quindi l'interesse ce l'ho solo io e io vi dico i punti dove devo stare presente pure io. Invece non vogliono la mia presenza, perché devono dimostrare che le antenne rispettano i limiti. Ma qui sarò ancora più feroci in questa battaglia. Certo, poi saprei bene, in più occasioni, nei vari esecutivi, nei vari governi, l'ultimo, quello della Meloni, stanno tentando anche a livello nazionale di riformare la normativa innalzando i limiti soglia di inquinamento elettromagnetico. Addirittura si vorrebbero portarli alla media delle 24 ore, dei 24 volte per metro, sapendo bene, al di là dei numeri che hai citato su Volturino, che noi abbiamo il precedente inquietante di Radio Vaticana che era 25 volte per metro. Insomma, lo studio Marconi ha definito quale fosse il raggio d'azione dell'incidenza neoplasie, tumori, linfomi e quant'altro. Però volevo chiederti, visto che nel 2021 sei tornato nuovamente negli occhi della ribalta, voglio dire, dell'opinione pubblica, dopo le varie incursioni della RAI, di Striscia alla Notizia, hai citato prima il Corriere della Sera, però esci sull'Ansa. Io ho l'abbattuto del 15 luglio 2021, la Notizia Anzia dice che la Commissione europea ha messo sotto osservazione il rischio di elettrosmog segnalato a Volturino, paese in provincia di Foggia, e attende nuove valutazioni scientifiche per capire la situazione, quanto emersi in occasione della discussione del caso Volturino alla Commissione Petizioni dell'Europarlamento. Parliamo del 2021, siamo nel 2023, nel 2024 in Europa si torna al voto, cosa è successo e se è successo qualcosa, Antonio? No, io sto aspettando, ho pure i contatti con la parlamentare pugliese che sta al Parlamento europeo e mi sta dando una mano. Di chi parliamo? Di chi stiamo parlando? Della professoressa D'Amato, Rosa D'Amato, e mi sta dando una mano e quindi ogni tanto abbiamo i contatti per vedere attraverso, l'ARPA non corrisponde con me, risponde alla D'Amato, risponde a me, perché l'ARPA non mi manda i documenti, perché già l'ho detto, chiaro chiaro, perché l'ARPA non vuole far spostare questi antichi. Ma quindi la valutazione scientifica che attende l'Europa qual è? La valutazione dell'ARPA? No, la valutazione che stanno studiando loro dalla Commissione europea e quindi io sto aspettando, anche ogni tanto sono lecito pur per sapere a che punto siamo, quindi sono ancora in attesa. Ma si parla di un'indagine epidemiologica oppure questo fronte diciamo? No, non so come si comporteranno, questo non lo so. Adesso gli manderò anche la statistica sulla mortalità di Volturino con due paesi vicini. Volturino ha le antenne vicine, gli altri di un po' più distanti a 4-5 km e quindi non hanno le antenne e ho notato la mortalità dal 1990 al 2021 che dai 40 ai 49 anni a Volturino sono morti il 68% di più rispetto ai comuni vicini che sono Alberuna e Motta, messi insieme che fanno stesso numero di abitanti di Volturino. poi da 50 a 59 anni la percentuale scende, scende intorno al 48%, da 60 a 70 anni scende ancora di più al 28%, perché? Perché muoiono prima. Più si va avanti negli anni, gli anziani sono di meno, quindi la percentuale è di meno. Tutti i dati sono degli indicatori che fanno presumere i danni. Non vogliamo dire con certezza, ma intanto va tenuto sotto osservazione. Com'è possibile che c'è un'altra? Non è il 3-4%, uno potrebbe anche dire vabbè, i numeri sono così. Però questi valori, queste percentuali alte, già sono un indicatore preoccupante. Voglio ricordare, l'abbiamo detto all'inizio, sei un professionista del ramo, insomma, un ex sondaggista per Ipsos e Doxa, quindi i numeri non è che li tiri fuori a casa, insomma. No, se no mi avrei progetto a denunciare. È chiaro. Perché loro dove si devono attaccare? Questi sono dati obiettivi. Andate a controllare i morti e verificare. Andate ai cimiteri dove volete. Questi sono i dati. Ma da che cosa sia dipendente? Però è la percentuale alta. E siccome abbiamo la percentuale altissima di insonni, è chiaro che poi l'insonnia produce caduta delle difese immunitarie. E la caduta delle difese immunitarie fa significare pure tutte altre patologie di cui muoiono le persone di coltrino. In primis tumori e poi un'altra cosa. Qui abbiamo anche un alto percentuale di diabetici. Perché? La scienza lo dice, non lo dico io. Mag Dax. La ricercatrice canadese parla di diabete di tipo 3. Esatto, bravo. È da tanti anni che c'è una documentazione. Quindi praticamente l'insulina di fronte all'insonnia non svolge bene il suo compito. Ecco com'è che cresce pure il diabete. Cioè tutti questi dati ci danno tutti raggiungi. Però non vogliono indagare. Perché se no si scopre, cade un castello. Perché poi oltre a caso Voltolini ci sono tanti altri casi in Italia e nel mondo. E quindi fanno di tutto per nascondere. E io finché ce la farò continuerò a insistere. Poi quanto insisto? Perché parlo sempre incazzato. Ma non è normale che una persona dopo 37 anni parli in tono pagato. Gli hanno detto però alla polizia. Sono quella alla porta se parli così. Ma non è normale parlare in tono pagato. Perché uno non è giusto che dopo tanti anni stiamo sempre a parlare delle stesse cose. Pure nel tribunale parlo così. I garabinieri, ho detto nei tribunali quattro volte, vi fanno rapporti falsi perché obbediscono ad ordini superiori. E questo è vero. Non sono i garabinieri che... Perché adesso vogliamo dimostrare... Come mai non hanno mai trovato un'antenna in più? Allora dimostrate voi tutte queste antenne. Quando sono state autorizzate. Ve le dovete documentare con documenti falsi. Ma poi li scopriremo. ecco. Questa è la realtà. Drammatica. Cioè Volturino ha insegnato tante cose. Quindi poi pure il TG1 ci ha dedicato un bel servizio e parlando pure i medici. Un medico molto preoccupato, quello che mi ha dato la statistica di Volturino, ha detto non mi hanno mai interrogato che mi preoccupa. E quindi voi volete sapere, non mi credete perché io sono interessato. Allora cedete al medico e vedete cosa vi dice. Non ce l'hanno cesto perché lo sanno. Online ho trovato praticamente un articolo di una fonte locale, un virgolettato questo che recito, ma quale insonnia qui si vive da Dio? Però magari ci si è dimenticato che tu qualche anno fa hai fatto un appello ai parlamentari, hai detto, hai detto, venite qui in vacanza perché siamo in un posto magnifico, l'affaccio alle isole Tremidi, insomma, un gioiello del meridione italiano e però venite gratis, tu li ospitavi, ma in realtà da quello che ho capito nessuno è voluto venire. Quindi come funziona? Ho invitato il professor Veronesi, tutti i negazionisti dell'elettromagneto. Siccome ci sono delle villette vicino alle quelle antenne, villette private, che allora ancora non erano abitate, allora vi ospiterà l'associazione, starete 15 giorni, 20 giorni, perché scopriremo subito gli effetti, perché visto che voi siete negazionisti, provate a dormire e verifichiamo. Veronesi e altri, ma non mi ricordo. Naturalmente nessuno ha risposto. Senti, invece ti volevo fare un paio di domande, insomma, di estrema attualità. Cosa ne pensi del fatto che sotto Ferragosto abbiamo rischiato il blitz delle compagnie telefoniche per innalzare i limiti di soglia di inquinamento elettromagnetico, smantellare una delle norme più cautelative a livello mondiale, seppuri sei volte per metro, e l'abbiamo sottolineato nel caso Volturino, non sono pienamente protettivi, però comunque sono cautelativi e si vorrebbe innalzare addirittura di 40-50 volte in più, insomma, arrivare a limiti veramente molto più spericolati. Qual è il tuo commento, Antonio Gagliardi, su questa manovra dell'esecutivo Meloni? Ma questo è un progetto di insanizzazione planetaria. Perché? Questi senza aver fatto nessuna sperimentazione, perché è inutile farlo, perché lo sanno che produce danni. E voi già avete piazzato tante antenne, non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. Quindi poi dopo chiederete di far approvare la legge e così irradirete. Cioè sono le cose più assurde. Ma prima di metterlo in commercio, un prodotto, va testato. Invece no, questo lo sanno. Allora io credo che questo fa parte del progetto di depopolazione mondiale. Ormai, oltre al 5G, scie chimiche e tutto il resto, qua non si capisce più niente. Io dico tante volte alle coppie che non hanno figli, beate voi, perché non metterete al mondo figli innocenti in questo schifo di mondo. Perché noi stiamo in mano ai diavoli. Cioè il delinquente, e sarà pure delinquente, uno che va a fare una rapina in una casa, ma quello non ci andrà più. Cioè questi invece ci fanno danni permanentemente. Cioè la cosa più assurda del mondo, più assurda non può esistere. E se prendere a piedi il 5G, i risultati li vedremo. Poi cominciamo a smantellare tutte queste antenne. Senti, invece cosa ne pensi del sindaco di Portico di Caserta, in Campania, che ha chiesto un intervento da parte dell'ASL, della Procura. Insomma ha segnalato il primo cittadino campano casi anomali di tumori in prossimità di antenne 4G. E io gliel'ho mandato, mi sono presentato chi era, gli ho mandato tutta la documentazione di stare attenti perché la percentuale è altissima di persone. Quindi se vanno a verificare quante persone soffrono di insone, e verificheranno anche quante patologie tumorali, diabetiche, tutti i resti scopriranno. Perché già la strada io l'ho aperto. E quindi li troveranno anche loro. Poi certo, dipende da che valori propagano queste antenne, io non lo so. Potrei anche andare a misurarle solo se mi pagano il viaggio. Non che devono fare la larpa, perché larpa sono furbe. Perché sono anche loro controllate, perché non solo la magistratura, ma tutte le istituzioni sono... Da chi, da chi, Antonio? Controllate da chi? Da questi poteri forti, da queste lobby. Questi impongono... I nostri politici sono dei camerieri, mica sono al servizio dei cittadini. Prendono i voti dei cittadini, ma i risultati li vediamo. Loro servono le lobby, dove c'è un interesse economico. A proposito di ombre, visto che tu prima parlai proprio dell'assenza di una ricerca scientifica sugli effetti a breve, medio e lungo termine del 5G, dell'elettrosmog in generale, insomma... No, ci sono. Eh no, ti volevo che... Ci sono degli scienziati. Esatto. Io ti volevo che, al di là di quelli indipendenti, non so se hai seguito le ultime vicissitudini della IARC, ad esempio, per quanto riguarda la circa sul cancro, dell'Europa, con il programma di circa scientifica Horizon, si chiama Sea Wave, e poi l'ultimo, recente, l'OMS, ha individuato 21 esperti che studieranno proprio il 5G, anche il 6G, le frequenze più alte. Ma io, andando un po' a indagare, a vedere i nomi di questi personaggi individuali, sono tutti appartenenti a quella casistica, a quel contenitore che abbiamo individuato con l'etichetta negazionisti del danno. Cioè, fanno tutti riferimento agli effetti di carattere termico, non biologico. Quindi, allora, la domanda che ti faccio è cosa possiamo aspettarci dall'Europa e dall'OMS, visto che individuano scienziati che già sappiamo, in partenza, non hanno un background per quanto riguarda la denuncia dei pericoli e dei rischi dell'elettrosmog. Certamente, avendo invitati questi scienziati a partecipare, sono quelli già che assicureranno assoluta tranquillità. Invece, quando si fa un confronto, si fa un confronto tra due pareri opposti, quantomeno. E poi, come mai ci sono tanti, ma non tanti, tantissimi scienziati che sono arrabbiati per questo fatto qui. Che interesse? Io che interesso a dire che questi fanno male? E uno scienziato che interesse a dire che questi fanno male? Non che ci volano. Quindi, l'interesse, semmai, è di chi? Nega, perché poi riceverà dei compensi. Uno dell'OMS, tanti anni fa, Repacioli, e glielo ho scritto, l'ho pubblicato perché lui aveva... Fondatore dell'ICNIRP, Michael Repacioli, fondatore dell'ICNIRP, da lui è nato... Da lui è nato quel lente privato che ha la gestione dei limiti soglia a livello di standard, insomma, di sicurezza per la popolazione. Sì, conflitto da interessi. Prego, prego, Antonio. Esatto, quello riceveva delle sovvenzioni dalle compagnie telefoniche. Come poteva dire che le onde elettromagnetiche fanno male? Stava a capo dell'OMS. Ecco, che tutte le istituzioni sono controllate, ma non gli daranno i soldi. Da parte il fatto che lui l'aveva ammesso dicendo che era una consulenza. Ma lei non può fare il consulente per i privati. È un'istituzione pubblica. È lì che si è fatto l'autogol. Ma così succede anche con gli altri. Andrà avanti sempre così. Cioè, per risolvere il problema ci vorrebbe un movimento di massa, cominciare a protestare a destra, ma non solo per le onde elettromagnetiche, ma qualsiasi problematica. Allora, solo così. Il numero fa paura. Ma se la gente... Ehi, tu sai quante persone dicono ma tu stai ancora a compattere. Ma vent'anni fa me lo dice. Ehi, tu stai ancora... Cioè, tu perdi tempo. Ma voi dovete collaborare. Che significa? Cioè, è questa la loro forza. La debolezza della gente che non vuole partecipare, che è troppo ignala, specialmente dalle parti nostre meridionatiche. Siamo alle ultime battute. Mi racconti un episodio che magari ti è rimasto impresso di questi 37 anni di lotta contro l'elettrosmog a Volturino. Magari qualcosa che ricordi ancora in maniera impattante a livello emotivo e non solo. Abbiamo anche il problema dell'impotenza. Quindi parlo del 1999. Quindi data da questo medico, grande medico amico mio, che è coraggioso, che ha accusato queste onde elettromenelle. Che lì erano andati il 3% della popolazione dai 24 ai 45 anni a lamentarsi di avere problemi sessuali. Quando gliel'ho fatto vedere il professore Emilio Iannini, no, Iannini, il nome non mi ricordo, dell'Università dell'Aquila, quando ha visto questi dati della statistica mia dell'impotenza, eccetera, ma questo è un dato importante, ha detto, perché il 3% è solo di chi ha avuto il coraggio di andare dal medico. Quindi è chiaro che è molto alto. E infatti, sterilità, impotenza. E' molto alta la statistica. Però non se ne parla, perché ci sono dei pochi coraggiosi che vanno dal medico. Altri no. La statistica sulla invertilità è molto alta. Mettono la scusa che la gente per la crisi economica non vuole fare figli. No, se c'è la crisi economica ne fa almeno uno, non ne fa due o tre, ma non fa neanche mezzo, significa che il problema è un altro. Il telefonino in tasca. Il telefono in tasca, permanente, non è che uno ce l'ha provvisoriamente, non farebbe male. Soprattutto gli uomini lo portano nelle zone basse. Esatto, no, no. Corpisce gli uomini. Corpisce gli uomini. Perché se lo tieni permanentemente in tasca, è chiaro che gli spermatozoi sono ridotti di numero e sono più piccoli. E questi sono i risultati. Con il 5G, è chiaro che poi si estingue la popolazione mondiale. Se questo è lo scopo, vabbè, l'avete raggiunto. Senti, l'ultima battuta te la lascio libera. Magari se vuoi fare un appello, dire qualcosa che non ti ho chiesto, sono 30-40 secondi per te. Devono, lo Stato, deve mettere tutte queste antenne, ma precauzionalmente, dove danneggia il meno possibile, che danni li farà comune, ma che danneggiasse il meno possibile. Non possiamo essere, ormai l'uomo viene sostituito da queste macchine. L'uomo non è più soggetto, ma diviene oggetto. Quindi bisogna intervenire urgentemente per far sì che ci sia meno irradiazione possibile. Quindi, lasciamo i 6 voltometri. Anzi, sarebbe meglio ancora di meno, perché con i 6 voltometri, perché a Voltolina pochi punti si raggiungono i 6 voltometri, ma la maggior parte vive sotto 3, 4, 5 voltometri e quindi le malattie qui ci sono, l'insonnia e tutto il resto. Quindi, abbassare i limiti e stiamo tranquilli. Usa e poi fare raccomandazioni sull'uso corretto del cellulare, che non deve stare le persone sempre col cellulare in mano. Ormai è il cellulare che usa le persone. Le persone stanno diventando oggetti. Cioè, uno non si rende conto, istintivamente, sta subito a prendere. Come c'è un momento di no, subito da prendere il cellulare. C'è ormai il cellulare che ti cattura. E questo è il ruolo grosso. Quindi bisogna fare delle campagne di informazione corrette. sempre se lo scopo è di ridurre la popolazione mondiale. E allora, non fate nessuna informazione. E così, ci diciamo addio e finiamo combinando il discorso. Combattente nell'interesse pubblico da 37 anni in prima linea a Volturino. grazie Antonio Cagliardi. Prego, prego. Allora, io vi ricordo, ovviamente, per chi volesse approfondire questi temi, è disponibile il mio libro Manuale di Autodifesa per Elettrosensibili come difendersi dall'Elettrosmog oppure per avere una panoramica generale sul wireless di quinta generazione Stop 5G Salute Ambiente Geopolitica, Privacy, Transumanesimo e Controllo Sociale Libro e Inchiesta sui Radio Oscuri del Futuro Digitale Entrambe le pubblicazioni editate con Terra Nuova. Vi ricordo, oltretutto, anche un aggiornamento costante sul sito di informazione Libere e Naturale oasisana all'indirizzo www.asisana.com ringraziandovi per l'attenzione e l'appuntamento e alla prossima puntata di Allerta 5G sempre qui sulla Casa del Sole Un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci